La settimana di RaiSport tutta ad un fiato, sette giorni dedicati agli animali. A partire da sabato le racchette da tennis fendono l'aria come ali d'aquila nelle semifinali dell'ATP Challenger. Domenica sono i delfini dei campionati italiani assoluti di tuffi a lanciarsi a caccia di nuovi record. Lunedì gli avversari attenti e appollaiati come civette sul biliardo delle semifinali e finali del campionato italiano di Carambola. Martedì per Cinema Sport i leoni della box lottano per la sovranità del ring in Fight. Mercoledì sulla rete di una nuova tappa di beach volley volano i gabbiani del campionato italiano. Giovedì si corre come leopardi nella massima serie di baseball San Marino versus Bologna. E ogni giorno l'Arca di Noè naviga con Memoria RaiSport.